Come Movimento 5 Stelle abbiamo spinto tantissimo per ottenere la sperimentazione del voto elettronico e adesso abbiamo visto in questa mini sperimentazione di Comites che effettivamente è andato bene, però chiaramente lo scopo è quello di portarla a termine per le prossime elezioni politiche per permettere a più italiani e all'estero possibile di votare con un sistema più sicuro, un sistema che abbia meno effetti collaterali perché purtroppo abbiamo visto in tutte le precedenti tornate elettorali quanti problemi abbiano creato i voti per corrispondenza e quanto purtroppo anche non chiarissimo ci fosse dietro, il voto elettronico è sicuramente più sicuro, è sicuramente più agevole e sicuramente permetterebbe una maggiore partecipazione democratica dei nostri connazionali all'estero.